Il vertice Nato di Bruxelles si chiude con una ritrovata sintonia tra Stati Uniti ed Europa. Trump alza la voce e minaccia di uscire dalla Nato se gli altri paesi membri non spenderanno di più per la difesa. Poi incassa l'impegno per 33 miliardi di dollari e dice la Nato oggi è più forte. Il corrispondente Alberto Romagnoli. Sono un genio molto stabile, dice di sé il Presidente degli Stati Uniti, cantando vittoria dopo una guerra di parole durata due giorni. Ma dentro un edificio, il quartiere generale della Nato, dove le guerre si fanno per davvero e per chi ha il fronte non c'è niente di peggio del fuoco amico. L'Alleanza Atlantica regge da 69 anni ma non aveva mai visto il suo principale sostenitore, l'America, prendere così di petto gli altri 28 partner accusati dalla Casa Bianca di spendere troppo poco per la difesa. L'America ci investe il 3,6% del suo prodotto interno lordo, la Germania, il secondo paese in termini di ricchezza appena un terzo. Adesso tutti, nel giro di qualche anno, arriveranno al 2% del PIL, al quale si erano già impegnati dal 2014. A fine mattinata era circolata la voce che se non avessero allargato davvero i cordoni della borsa, Trump sarebbe stato pronto a fare da solo. Le mie orecchie non hanno sentito parola di questo genere, chiarisce in seguito Macron, spiegando che tutti hanno confermato di fatto gli impegni già assunti. Merkel però non gradisce il nesso sottolineato invece dal Presidente americano tra i problemi del commercio e quelli della sicurezza, che passa ormai anche dalla gestione dell'immigrazione, è convinto Trump, guardate in Italia, Giuseppe, è così che chiama Conte, ha vinto le elezioni perché ha fatto una politica forte su questo tema. E dopo il vertice nato il Premier Conte assicura dall'Italia nessuna spesa aggiuntiva, quindi sul tema migranti annuncia una lettera Tusk e Juncker per chiedere l'attuazione dei principi decisi all'ultimo Consiglio europeo. Roberto Kinzeri. Il problema dei fondi posto da Trump esiste, ammette il Presidente del Consiglio che del vertice nato, sottolinea l'importanza di aver reso operativo l'Hub di Napoli sulle spese per l'alleanza spiega. Dobbiamo considerare anche il contributo nelle missioni, nelle attività di intelligence. Nessuna spesa aggiuntiva, oggi non abbiamo deliberato per quanto ci riguarda di offrire ulteriori contributi rispetto a quello che è già predeterminato da tempo. Con il Presidente americano a Washington anticipa parleremo di Libia e annuncia per il prossimo autunno una conferenza internazionale a Roma dedicata al paese nordafricano. Il Premier torna sul tema migranti, oggetto del colloquio con Angela Merkel, rivendicando un percorso condiviso nel governo e annuncia una lettera alle istituzioni comunitarie per passare dagli accordi ai fatti anche sulla missione Sofia. La mia lettera a Juncker e Tusk partirà molto presto. Nella lettera anticipo che chiederò anche che questa missione internazionale sia adeguata a quelle che sono le conclusioni rassegnate al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno. Il Premier assicura che il governo vuole tenere i conti in ordine.